Un progetto dal valore complessivo di mezzo milione di euro per far tornare al suo antico splendore il cortile interno del castello Visconteo di Pavia, un obiettivo che l'amministrazione comunale intende perseguire anche in vista delle celebrazioni dei 500 anni della battaglia di Pavia, uno scontro che ha segnato i destini dell'intera Europa. Con una determina dirigenza dei giorni scorsi, il settore dei lavori pubblici ha paltato gli interventi ad una ditta di Venezia che si è giudicata al cantiere. Il progetto è stato ribattezzato 1525-2025 luci ed ombre al castello Visconteo e prevede il recupero della corte interna nel suo insieme. Vi sarà quindi attenzione a diverse sfaccettature. Gli interventi guarderanno infatti all'architettura della struttura, ma anche ad altri aspetti prettamente artistici come la decorazione scultorea, gli affreschi ed il lapidario per garantire all'utenza una rinnovata fruizione. Nei giorni scorsi vi è stata l'aggiudicazione dell'appalto ad una ditta di Venezia per un importo di 587.000 euro. A questa cifra vanno aggiunti gli oneri di sicurezza pari a 72.300 euro e l'IVA per un totale di circa 700.000 euro. Sono lavori attesi da tempo per riqualificare un pezzo del patrimonio artistico del capoluogo, anche in vista delle celebrazioni dei 500 anni della battaglia di Pavia.